... Ma tieniti i cazzi di piedi, po' questa puttana! Ma non è di piedi, no? Alessio! Oh, chi è quello? Se ne dava pure i piedi entra in fisico, stava in seriato. Poi voleva strafare. Ma dai, non è umile, cioè tieni, fai le cose che puoi fare e basta. Facca pure il fiato, eh? Beh, quello si, però faccia, quando batte le punizioni. Bene, 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 siamo chiusi bene. A centro campo, sale uno! Oh! Ciao! Ciao!